Ancora grandi interpreti, con solisti di prestigio e collaborazioni di respiro internazionale all'estate in città del comune di Pordenone. Martedì 15 luglio alle ore 21, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospiterà infatti Rhapsody in Blu, concerto dell'orchestra sinfonica della radiotelevisione slovena, solista Enrico Pierannunzi. A dare il titolo al programma, la celebre Rhapsody in Blu, composta da George Gershwin, musicista americano ma di origini russe nel 1924, che fonde mirabilmente due generi, jazz e musica colta. La direzione del concerto sarà a cura del maestro Eddie De Nadai, già direttore musicale di palcoscenico al Teatro La Fenice di Venezia. Rhapsody in Blu è un capolavoro assoluto tra musica classica e musica jazz. Abbiamo affiancato a Rhapsody in Blu la celeberrima sinfonia dal nuovo mondo di Vorjak, perché Vorjak è un altro autore compositore diventato americano e ha scritto questa celeberrima sinfonia proprio citando dei temi degli indigeni locali che poi in realtà non è così, ma comunque è una sinfonia americana. Quindi concerto dedicato all'America come sogno americano. Anche Gershwin non dimentichiamo che era russo di origine e poi si è trasferito in America. La prevendita dei biglietti è aperta e ricordiamo che ci sarà anche una grandissima orchestra. Orchestra sinfonica della radiotelevisione slovena di Lubiana, un po' di casa a Pordenone perché è venuta forse qualche decina di volte, una delle migliori orchestre europee che sicuramente proporrà un concerto, speriamo, perché ci sono anch'io di mezzo naturalmente come direttore, ma dovrebbe essere un concerto molto bello. Grazie a tutti.